Questo è molto importante. La legge ci porta a Gesù. Ma qualcuno di voi può dirmi, ma Padre, una cosa, questo vuol dire che se io prego il credo non devo osservare i comandamenti? No. I comandamenti hanno attualità nel senso che sono dei pedagogi che ti portano all'incontro con Gesù. Ma se tu lasci di parte l'incontro con Gesù e vuoi tornare a dare l'importanza più grande ai comandamenti, questo era il problema di questi missionari fondamentalisti che si sono mischiati fra i Galati per disorientarli. Che il Signore ci aiuti a camminare sulla strada dei comandamenti, ma guardando l'amore a Cristo con l'incontro di Cristo. sapendo che l'incontro con Gesù è più importante che tutti i comandamenti. Grazie. 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 Grazie.